Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Gli aggiornamenti sul trasporto pubblico percorso di nuovo regolare per la linea bus 982 che collega viale dei 420 e viale 17esima Olimpiade. La deviazione della linea sul Lungotevere è terminata dopo la conclusione dei lavori in viale delle Belle Arti. Nell'area di San Pietro sono tornate alla normalità le linee 40 e 62 che erano state limitate per un temporaneo divieto di circolazione a Borgo Sant'Angelo, divieto temporaneo appunto dovuto agli interventi preparatori per il cantiere della nuova Piazza Pia. E da martedì 22 agosto tra Prati e San Pietro, sempre per lo stesso cantiere, inizieranno deviazioni di più lunga durata per le linee 23, 40, 62, 280, N3D e N3S in vista di una nuova fase di modifiche per la viabilità necessaria all'apertura proprio del cantiere. I dettagli sui percorsi che seguiranno queste linee da martedì sono anche sul sito romamobilita.it.